Christi, ci dai benedizione. Allora, passiamo, di conseguenza, come in tutte le centrali d'Italia, l'esercismo, per sentirsi, no, per una voce, come, oh, mi sono venuti 12 albanesi, tutte le volte, non soffrevo niente, eccetera, eccetera, non farlo così, così. E voleva fare tutto per l'esercismo, mi disse, tu stai facendo l'esercismo così, e chissà quanti demoni si soffrono dalla pretensione di San Michele Arcandio, io so, io, ciò non ti faccio, per la prima volta, ma il cielo è stato tutto, il nome del Padre, si chiude il Spirito Santo. E allora, io gli ho diccio in Cielo, l'Incidio, sante Michele Arcandio, difenderò, se non ci fai ad aspettare, se non ci fai ad aspettare, adesso muro che ero, che ero stai avando al ponte al spitalo, e di intervento di noi. Veni a girare un'occhio di saleman, che è un diabile e un diabolo, che è costato da tutto il santo e capo in un'argo che è già. Ti vi trattano, ti vi da due anni, per tutto il suo mano, felicità di grande. In nome di noi, Gesù Cristo, intercedente e magrota di Digni e Digni e Maria, Grazie a tutti i nostri sp risks degli altri con i отдori, andiamo tutti i sti ambienti e raffanci therem. Grazie a tutti i nostri spiasedi. ... il centro di l'antipostimo. È un'eropinosa, perché è un'eropinosa, che è un'eropinosa che è un'eropinosa. È un'eropinosa di queste cose. Qui ci sono stati di un'eropinosa. Perchè, ero v'unico che non c'è più. Giuseppe, è sempre con voi, è una maggiore. amantissima donna e mi chiede da tutti grazie alleluia ora pro nobis Deo alleluia ora pro nobis santa Dei che è niente uta fissa l'amor provisione Vos Christi concedere a questo nome Deus perpettamente il corpo sentata e gaudere ete gloria Maria sempre viri in s'interruzione adete presenti liberali testicia ete farne far fulle dicemere amur per Cristo Domino Nostro Amen Gloria Gloria Padre e Figlio e lo Spirito Santo Gloria Padre e Figlio e lo Spirito Santo Gloria Padre e lo Spirito Santo come e e a in filtration e lo Spirito Santo e lo Spirito Santo Gloria Padre e lo Spirito Santo come e e al agricolo e sempre nel stecola in manicomio in manifestazione e l'angri perché la gloria e la gloria e la gloria e la gloria Amen ины Grazie.